Ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. In FIPILI segnaliamo i cantieri in corso per lavori di miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Lastra Assigna nei due sensi di marcia. Il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Gli stessi lavori, l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo dal Livorno è chiusa al traffico. Voltiamo pagina per il traffico navale, segnaliamo numerose cancellazioni per i traghetti in partenza dal porto di Piombino. Al momento segnaliamo che sono cancellati i traghetti Piombino-Cavo delle 14.55 e delle 16.05. Cancellato inoltre il traghetto diretto a Porto Ferraio delle 14.30. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!